Una sola parola, grazie mille. Ah, beh, sono due. Comunque, grazie mille. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Questo sarà un video più breve in cui semplicemente voglio ringraziarvi. Voglio fare il punto della situazione e parlare di tutto quello che è successo quest'anno. Io sono Stefano, sono un insegnante d'italiano per stranieri e benvenuti o bentornati sul mio canale dove ogni settimana parliamo di grammatica, vocabolario e cultura italiana. Il 2023 è stato davvero un anno fantastico. Sono successe davvero tante cose. Prima di tutto, la più importante, abbiamo raggiunto i 100.000 iscritti qui sul canale YouTube. 100.000 è davvero tantissimo, non possiamo ancora crederci. Mi ricordo il giorno in cui ho ricevuto questa a casa, ero davvero felicissimo perché non me lo aspettavo. Diciamo che io sin da quando ero piccolo ho sempre amato fare i video, comunque condividere le mie esperienze su internet, anche su YouTube. Pensate che quando avevo 16 anni avevo un canale YouTube, ma non lo troverete mai perché tutti i video sono privati e quindi è introvabile. Però sì, quando avevo 16 anni io già avevo un canale YouTube che poi ho chiuso dopo un anno. In questo canale YouTube facevo dei video divertenti e parlavo anche della mia esperienza negli Stati Uniti perché sono stato un exchange student ormai, otto, nove anni fa. Poi qualche anno fa ho deciso di aprire di nuovo un canale YouTube però con un intento diverso e ora è diventato il mio lavoro a tempo pieno e adoro questo lavoro perché amo la lingua italiana, amo la cultura italiana e mi piace condividerla qui con voi. E poi di nuovo 100.000 è incredibile perché è solo grazie a voi che abbiamo raggiunto questo risultato. Ma poi cos'altro è successo quest'anno? Beh, abbiamo rilasciato il nostro nuovissimo corso italiano vero base. Siamo davvero super felici di questo corso, è davvero fantastico. Tutti i nuovi studenti e studentesse lo stanno apprezzando davvero tantissimo. E adesso quindi abbiamo tre corsi. Bitaliano che è il nostro corso per principianti in inglese, il corso italiano vero che è un corso intermedio di livello B1-B2 e per finire il nuovo corso italiano vero base di livello A2-B1. E sono felicissimo di annunciare che quest'anno abbiamo superato i 2000 studenti nella nostra scuola online, nei nostri corsi. Avete capito? 2000 è una cosa incredibile! Tantissime persone che vengono da tutto il mondo. Ma la cosa che mi rende più felice è quello che gli studenti e le studentesse pensano dei nostri corsi. Le recensioni sono incredibili e noi siamo davvero felicissimi. E poi c'è un altro grande obiettivo che abbiamo raggiunto quest'anno. Infatti il nostro team è un po' più grande. Se non lo sapete io lavoro dall'inizio con la mia miglior amica Gaia, ma quest'anno abbiamo altre due persone fantastiche. Abbiamo Benedetta, la nostra nuova professoressa di italiano. Lei è di Napoli ed è bravissima e ci sta aiutando a creare dei corsi di italiano fantastici. E poi abbiamo Antonio, il mio ragazzo, ma che ci sta anche aiutando a montare tutti i video che vedete qui sul canale. Quindi grazie mille anche a lui. Grazie anche adesso che stai montando questo video. Quindi siamo davvero felicissimi perché questo è un lavoro di squadra e grazie a questa squadra possiamo portarvi dei contenuti fantastici per imparare e migliorare in italiano. Però l'anno sta finendo. Quali sono i nostri obiettivi per il 2024? Beh, ci sono tantissime cose che vorrei dirvi, però purtroppo non posso dirvi tutto. Beh, forse posso farvi qualche spoiler. Beh, diciamo che è abbastanza ovvio. Abbiamo italiano vero base, abbiamo italiano vero, quindi manca solo... Avete capito, eh? Diciamo che dovete avere un po' di pazienza, però comunque tra qualche mese ci sarà questa novità. E poi stiamo anche lavorando a un progetto completamente nuovo. Posso dirvi che è un corso, ma molto diverso. Vabbè, non voglio dirvi altro. No spoiler. E poi ci sono tante tante altre cose che vorrei dirvi, ma non posso. Quindi dovete avere un po' di pazienza. Sono sicuro però che il 2024 sarà un anno fantastico, ancora più bello del 2023. Siamo davvero felicissimi e super pronti a portarvi dei contenuti fantastici e dei corsi incredibili. E il 2024 sarà anche il tuo anno. Un anno pieno di italiano dove migliorerai tantissimo e noi siamo qui per aiutarti. E quali sono i tuoi buoni propositi per l'anno nuovo? Beh, fammelo sapere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo l'anno prossimo con una nuova lezione. Buon anno a tutti da Teacher Stefano e... Buon anno a tutti da Gaia. Ciao! Buon anno a tutti da Antonio. Ciao! Ciao a tutti, tantissimi auguri di buon Natale e di buon anno da Benedetta. Ciao! Ciao! Ciao!